Vi era un'epoca in cui il mondo stava precipitando nelle tenebre e nel caos. Un'epoca in cui nessuno si opponeva al male. Uomini, serrote i ranghi! L'unico vero diavolo sono io! Se tu salvi la nostra bambina, anche la tua anima ti salverà. Il diavolo ti vuole! E il diavolo potrà prendermi fra poco. Che diritto hai tu di prendere la mia anima? Il Dio di subito davanti a me! Solomon Cain. Lunedì alle 21.20. Rai 4.